Tommasino, ma certo che tu pensi sempre solo a mangiare, però hai ragione, in Campania ho mangiato davvero tante cose buone, la pizza, la mozzarella di bufala, un sacco di dolci, però ho anche visitato dei posti stupendi, ad esempio, ecco ad esempio la Reggia di Caserta, che è uno dei palazzi reali più belli d'Italia. E poi, poi sono stata a Napoli e mi sono persa per le sue strade e proprio nelle sue strade lì ho ascoltato una fiaba che chissà, forse conoscete già, ma non in questa versione. Ma adesso basta, basta starcene al chiuso, usciamo! Perfetto, ora sì che posso raccontare la mia storia. Questa è la fiaba della gatta Cenerentola, e inizia così. C'era una volta un gran principe che aveva una bella casa a Posillipo. Qui viveva con la sua unica figlia, Zezolla, e la mamma purtroppo non c'era più. Zezolla era una ragazza giudiziosa e studiava in casa con una maestra che a lei piaceva moltissimo, che si chiamava Carmosina. Insieme a Carmosina, Zezolla studiava la storia, la geografia, la scienza, le lettere e anche il ricamo. Il ricamo le piaceva tantissimo e passava ore e ore a ricamare insieme alla sua maestra Carmosina. Tanto che un giorno Zezolla ebbe un pensiero che non riuscì a trattenere e le disse, oh Carmosina come vorrei che mio padre sposasse proprio te. Beh, Carmosina fece gli occhi furbi e le disse di parlarne con il principe suo padre. E Zezolla così fece, ne parlò al padre e ne parlò ancora e ancora ancora affinché il padre non si convinse. Così il gran principe e Carmosina si sposarono e quanto fu felice Zezolla proprio non ve lo so dire. Ma la sua felicità, ahimè, durò poco, pochissimo. Perché dopo solo due giorni dal matrimonio, Carmosina cambiò, rivelò quella che era davvero. Non era gentile, amorevole come aveva finto di essere, anzi, era davvero una donna perfida, terribile. Portò subito in casa con sé le sue sei figlie che fino a quel momento aveva tenuto nascoste, sei ragazze che bisogna dirlo. Purtroppo erano peggio di lei, avevano un carattere proprio terribile, malevolo. E la povera Zezolla si trovò improvvisamente maltrattata da tutte queste sorellastre. Addirittura Carmosina tanto fece, tanto disse che il gran principe iniziò a preferire le altre sei figlie alla sua Zezolla. E Zezolla, così maltrattata, finì per perdere tutti i suoi bei vestiti se li presero le altre sei sorellastre. Si vestì di stracci e andò a starsene in cucina. E siccome stava sempre rannicchiata davanti al fuoco per scaldarsi un po', le sei sorellastre la prendevano sempre in giro. Le dicevano, ah, gatta cenerentola, gatta cenerentola, rannicchiata nella cenere per scaldarti, gatta cenerentola. E tutti si dimenticarono del vero nome di Zezolla. La chiamavano soltanto gatta cenerentola. Un giorno il gran principe dovette partire per un viaggio e chiese a tutte le figlie che cosa volevano in regalo e Zezolla disse soltanto che voleva essere raccomandata alle fate. Beh, il principe se ne stava andando sull'isola di Capri. Lì c'era una grotta delle fate. Andò lì e fece la raccomandazione. Allora dalla grotta uscì una dama con delle ali sulla schiena e diede al principe un dattero per Zezolla insieme a un secchiello d'oro, a una piccola vanga, una paletta e a un fazzoletto di seta. Zezolla fu entusiasta, piantò il dattero e lo vide crescere e lo bagnava con il secchiello d'oro e lo asciugava con la salvietta e quando il dattero crebbe divenne una piantina, da un fiore uscì fuori una fatina e quando Zezolla era triste la fatina la confortava sempre. Gli anni passavano, Zezolla cresceva e le sorelle andavano sempre a grandi balli sontuosi a cui lei non poteva mai partecipare. Un giorno però si stufò anche perché aveva saputo che alla reggia di Capodimonte c'era un gran ballo dove era presente il re di Spagna a quel tempo era la Spagna a governare anche su Napoli e il re di Spagna era scapolo, tutte le fanciulle volevano incontrarlo. Allora Zezolla andò alla sua pianta di dattero, chiamò la fata e la fata ne uscì fuori e iniziò a vestirla come una gran principessa e Zezolla andò al ballo senza che nessuna delle sorelle la riconoscesse. Il re di Spagna la vide, subito ne fu rapito, ballò con lei tutta la notte. Ma a un certo punto Zezolla ebbe paura che le sue sorellastre potessero riconoscerle allora se la diede a gambe levate tornò alla sua carrozza per fuggire. Il re di Spagna non voleva perderla, allora le mandò dietro un suo fedele servitore e il servitore corse, 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 corse verso la carrozza di Zezolla e lei per distrarlo gli lanciò delle pietre preziose, la collana che aveva indosso. Il servitore si fermò a raccogliere le pietre e Zezolla scomparve e le sorelle non sospettarono nulla. Ma arrivò a un altro ballo, un altro giorno Zezolla voleva proprio andare e di nuovo ripete il trucco con l'aiuto della fata. Tutta bella abbigliata danzò ancora con il re di Spagna finché non ebbe paura di star rischiando troppo, forse le sue sorellastre l'avrebbero riconosciuta e allora decise di darsela a gambe. Ma il re di Spagna non voleva perderla, le sguinzagliò dietro di nuovo il suo servitore. Il servitore deciso stavolta a non perderla, corse, 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 corse dietro la carrozza. Ma Zezolla allora lanciò dietro alcune monete d'oro e il servitore si fermò a raccoglierle e quando rialzò lo sguardo la carrozza era svanita. Zezolla tornò a casa e le sue sorellastre tornarono raccontando di questa principessa che aveva danzato con il re di Spagna e lei stette zitta, non avevano sospettato nulla. Però il tempo passava, arrivò un altro ballo, Zezolla voleva rivedere il re di Spagna perché ormai se n'era innamorata. Quindi di nuovo chiamò la fata della pianta di dattero e la fata la vestì di nuovo, la fece bella, bellissima, stupenda e Zezolla andò al ballo, danzò con il suo re di Spagna finché non ebbe troppa paura di star rischiando, non voleva farsi scoprire, allora se la diede a gambe. Ma questa volta il servitore del re di Spagna era deciso a non perderla, si legò a doppio filo alla carrozza. E allora Zezolla spronò i cavalli più veloci, più veloci, più veloci perché non voleva proprio farsi sorprendere e nel trambusto generale il servitore cade a gambe all'aria, ma Zezolla perse una delle sue scarpine dorate. Il servitore non ebbe altro da fare che portare la scarpina dorata al re di Spagna, era l'unica cosa che era rimasta della sua amata. Il re di Spagna non si perse d'animo, quindi fece subito diffondere un annuncio. Sarebbe stato organizzato un grande banchetto a cui erano invitate tutte le fanciulle che partecipavano anche ai balli a Napoli. Beh, le fanciulle della città non se lo fecero dire due volte, parteciparono a questo grande banchetto accompagnate dai loro padri. C'erano anche le sei sorellastre di Zezolla insieme al grande principe, Zezolla no, perché lei le era stato imposto di restare in cucina lì nella cenere, non poteva certo venire così al grande banchetto del re di Spagna. Ma era tutto un trucco, il re di Spagna intanto andava di tavolo in tavolo a provare la scarpina dorata alle ragazze, però per una era troppo grande, per un'altra era troppo piccola, per un'altra era troppo stretta, non c'era niente da fare, la scarpina proprio non si calzava. Finché finché il gran principe non disse al re di Spagna che lui in realtà aveva un'altra figlia, ma quella era una gatta cenerentola, di certo non poteva essere invitata al banchetto. Al re di Spagna però venne un sospetto e allora disse no no, portatela qui, che le sia provata subito la scarpina. E quando Zezolla vestita di stracci fu condotta dal re di Spagna, la scarpina gli si staccò dalla mano andò a infilarsi dritta dritta come una calamita sul piede di Zezolla. Così tutti i trucchi vennero svelati e vennero celebrate le nozze tra il re di Spagna e Zezolla, mentre le sei sorelle erano così arrabbiate che andarono via a rodersi il fegato. E nulla, proprio nulla, potrai mai turbare la felicità di Zezolla. E larga la foglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia.